Allenarsi per il futuro è il progetto di Bosch che insieme a Ranstad vuole portare la nostra testimonianza di due grandi multinazionali alle scuole di tutto il territorio italiano. Allenarsi per il futuro è un progetto nato due anni fa, nel 2016 vogliamo incontrare oltre 300 scuole di tutte le regioni italiane attraverso la metafora dello sport e soprattutto attraverso la testimonianza di campioni, anche attraverso la pratica di offrire dei tirocini formativi in una delle nostre realtà del gruppo Bosch e anche dei nostri compagni di viaggio come Ranstad e di altre società. Siamo in tanti e in tutta Italia cerchiamo di portare la nostra testimonianza ma grazie a queste due aziende Bosch e Ranstad danno la possibilità ai giovani di avere qualche alternativa nella scuola e nel lavoro e noi cerchiamo di mettergli qualche dubbio cercando di spiegare le nostre esperienze non facili per arrivare a certi livelli come nello sport ma anche nella vita. Dopo aver salito 8-8 mila senza ossigeno utilizzo queste mie esperienze estreme per riuscire a parlare ai giovani per riuscire a trasmettere la voglia di vivere, la voglia di far fatica, la voglia di impegnarsi nella vita perché questo è veramente importante. Credo che i ragazzi abbiano proprio voglia di sentirsi raccontare le nostre storie perché a volte quello che manca un pochettino quando guardano la televisione è proprio il racconto e la storia che sta alle spalle di quel campione che vedono vincere. Vedono soltanto la medaglia ma magari non sanno tutto il sudore che ci vuole per raggiungere quella medaglia perché la medaglia non si vince in gara, si vince in allenamento. I principi che cerchiamo di trasmettere quando andiamo a fare le tappe di allenarsi per il futuro sono i principi con cui siamo cresciuti, con cui sono cresciuto legati allo sport quei valori che mi hanno permesso di raggiungere determinati obiettivi come la perseveranza, lo spirito di sacrificio, la passione, la fiducia in se stessi il saper giocare in squadra, il cercare di accettare le sconfitte così come le vittorie. allenarsi per il futuro e anche andiamo a vincere